Musica Buongiorno ragazzi, questa è la Nell'art che io propongo oggi Nell'art per Halloween ho voluto fare una cosa, fra virgolette, abbastanza semplice quindi una sfumatura dietro come se fosse un tramonto e questo decoro molto semplice quindi due alberi e delle zucchette ragazze, io spero che la Nell'arte vi piaccia e vi lascio i prodotti e il tutorial un bacio Allora, io ho già applicato la mia base protettiva su tutte le unghie e su tutte le unghie ho dato una base di smalto bianco ovviamente per stringere i tempi ho già realizzato la sfumatura sulle altre unghie ve la faccio vedere semplicemente sull'indice per evitare di sporcare la pelle intorno ho applicato dello scotch intorno a tutta la pelle ora andiamo a prendere una spugnetta utilizzo questa qui che ho già utilizzato per le altre unghie e andiamo a mettere i nostri smalti quindi in questo caso il giallo il colore salmone quantità più o meno abbondante e l'arancione così ora con piccoli movimenti a mezzaluna e andando anche verso l'alto e il basso noi andiamo ad applicare la nostra spugnetta sull'unghia così andando a creare la sfumatura che ci piace di più e soprattutto facciamo varie passate quindi fra un pochino lasciamo asciugare e riandiamo ad applicare il colore sulla spugnetta fino a quando non saremo soddisfatti della sfumatura perfetto ora lasciamo asciugare andiamo a rimuovere lo scotch andiamo a ripulire il giro cuticole e insendiamo uno strato di smalto trasparente perfetto ora che tutto è asciutto prendiamo il nostro smalto marrone un pennello dalla punta sottile e andiamo a disegnare i nostri decori e andiamo a rimuovere il giro perfetto ora lasciamo asciugare ecco fatto ragazze questa è la nell'arte completata io ho già applicato il top coat su tutte le unghie ragazze io spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video un bacio ciao